Su questa Mercedes-SV 221, già con monitor modello 2010, abbiamo installato un'interfazia per poter vedere la TV all'interno del monitor originale e ovviamente ascoltarla con gli altoparlanti originali. Andando con il nostro menu audio sulla fonte AUX, ascolteremo l'audio della TV e tramite un pulsantino, la visualizzeremo anche all'interno del monitor. Questa è la scatolina che raccoglie naturalmente quello che adesso vi mostrerò. Fucita romana, con il probabile nome di Uria, nell'età feudale appartenne a diverse nobili famiglie. Per qualsiasi informazione a riguardo non esitate a contattarci. Io sono Andrea della SEL di Brescia.